per venire ne ha facoltà. Grazie Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come ha annunciato prima in questo altro emendamento andiamo ad affrontare il tema dell'altra filiera duramente colpita e che rappresenta il carattere, lo spirito più alto e più bello della nostra nazione che è quello del mondo delle arti, dello spettacolo dal vivo, degli spettacoli viaggianti, della danza, della musica, di tutto e ovviamente del teatro. Ebbene noi chiediamo che con questo emendamento si provveda a una serie di interventi economici, di veri e propri indennizi, non ristori, per il periodo per cui abbiamo costretto le strutture a rimanere chiuse e lo facciamo andando a fare ricorso al fondo per le esigenze indifferibili. Ebbene colleghi, collega Borghi, che rispetto per la sua grande capacità d'analisi, la sua grande capacità speculativa, dei problemi molto spesso anche controcorrente. Cosa c'è di più indifferibile nella patria delle arti? Di garantire il lavoro, la passione e quell'indotto che sviluppa miliardi di euro del PIL, che riguarda milioni di italiani e che è stato ormai ridotto allo stremo come quello dello sport che poc'anzi abbiamo affrontato. Ebbene, noi siamo stati la forza politica che per prima ha chiesto la riapertura, sempre, costantemente, abbiamo chiesto il tavolo permanente per la crisi, è stata una vittoria di Fratelli d'Italia, il tavolo è stato costituito per la prima volta al MIC, come al Mise per le crisi, paragonando e dando pari di tale imprese culturali come alle aziende industriali, dell'industria dei servizi. Ebbene, però, questo tavolo permanente serve a consultare le categorie, per cui non comprendiamo, non riusciamo a capire per quale ragione il ministro Franceschini abbia delegato la scelta della riapertura dei teatri, che noi pure abbiamo sempre sostenuto, al Comitato Tecnico Scientifico al 27 marzo. Ebbene, colleghi, quella riapertura, rispetto ad altre riaperture che invece continuiamo a sostenere e che sostengono anche le categorie, è una riapertura sbagliata, perché, come sappiamo, la stagione teatrale il 27 marzo alla vigilia della Pasqua è completata, è finita normalmente, quindi non ha nessun senso riapire i teatri se non quello, e questo è il sospetto che ci viene e che è venuto anche alle categorie che sosteniamo, che qualcuno pensi, anche dal discorso del Presidente Draghi, che riaprendo i teatri i ristori già esigui, già limitati, già, non vorremmo dire ridicoli, vengano ridotti o addirittura sospesi. Questo non è possibile. Se è un conto a senso, può aver senso riaprire i cinema, le scuole di danza, i luoghi di spettacolo, le associazioni culturali e dare vita, un po' e risorsa a questa filiera, riaprire i teatri senza concordarlo e senza indennizi che questo emendamento chiede ed esige, non ha alcun senso. Vuol dire che il Comitato Tecnico Scientifico non è né tecnico né scientifico e che non conosce come funziona il mondo dello spettacolo. Per cui, colleghi, colleghe a Borghi, colleghi della Lega, di Forza Italia, che noi rispettiamo e dimostriamo di avere un grande senso della nazione, perché, come avete visto, questa mattina leggendo la rassegna o ascoltando Radio Radicale, c'è stato un appello all'unanimità dalla Commissione Cultura Editoria, sui fondi per l'editoria e questo dimostra che Fratelli Italia fa un'opposizione patriottica, costruttiva, ma dovete rendervi conto che l'assenzione non è la risposta ai drammi ormai personali delle categorie degli artisti, dei ballerini, dei tecnici, di tutti coloro che fanno bella e grande la nostra nazione. Grazie. Il deputato Cirielli a facoltà di intervenire a titolo personale. Prego. Sì, grazie Presidente, colleghi, Governo, Fratelli d'Italia, questo emendamento persegue una sua battaglia di coerenza. Lo fa innanzitutto perché crede nelle cose che scrive e non è che le diciamo, le scriviamo solo quando siamo l'opposizione o perché siamo l'opposizione. Il tema che in politica è, come abbiamo detto, anche uno dei motivi che ci ha spinto a rimanere all'opposizione, la democrazia ha bisogno di un'opposizione che pungola, controlla la maggioranza, la sua funzione a volte è persino più importante. Ma il tema vero è che chi fa politica deve essere coerente. Quindi quando governa deve realizzare e fare le cose che dice da quando milita in politica. Per cui chi governa deve votare a favore dei provvedimenti che cambiano le cose o portarli in aula e chiedere il voto a favore. Deputato Butti, prego. Grazie Presidente. Qui stiamo parlando dello spettacolo dal vivo che, come è stato ricordato, gode di un'ampia tradizione nel nostro Paese. Stiamo parlando di imprese che purtroppo non lavorano da tanto tempo. Non ci sono spettacoli, non ci sono concerti. E anche la soluzione di riprenderli per poi trasmetterli via rete o in televisione non ha sortito particolari effetti. Perché si sa che lo spettacolo dal vivo produce delle emozioni che sono del tutto ignote allo schermo. E dietro ogni evento, e concludo, oltre agli artisti ci sono migliaia di operatori che nell'ombra sono quelli che ne consentono la realizzazione. E dietro di loro ci sono famiglie a cui manca sostentamento. E questo contributo a fondo perduto sarebbe una boccata di ossigeno. Grazie. Collega De Idda. Grazie Presidente. Più volte abbiamo incontrato i giastrai, quelli artisti, lo spettacolo viaggiante, i circensi, veri e propri nutri familiari che hanno dedicato la vita. La beffa è che non solo non hanno potuto lavorare, non hanno incominciato a lavorare e non hanno lavorato da un anno, ma gli aiuti fissati magari nell'aprile, quando loro incominciavano a lavorare e non avevano neanche incominciato all'anno. Che guadagni potevano avere? Tutti quei macchinari lasciati nel giardino, mai ascoltati, mai aiutati, mai avuto risposte. Famiglie che nella propria casa hanno quegli attrezzi che devono sempre manutenzionare perché se no arrivano in controllo dello Stato per dirgli che non sono a norma o mal controllati. Allora mettetevi la mano nella coscienza. Quelle famiglie non hanno una dignità, non hanno mai chiesto aiuto, sono abituati a lavorare. E smettetela di dire che noi lo facciamo per propaganda. Noi ascoltiamo e diciamo i fatti come sono, non abbiamo paura delle contestazioni. Grazie. Collega Del Mastro, delle Vedove, prego. Grazie Presidente. Al fine di sostenere convintamente l'emendamento del collega Mollicone di Fratelli d'Italia, avete chiuso improvvidamente anche la filiera culturale degli spettacoli, avete incredibilmente proposto di riaprirla al 25% i teatri al 27 marzo, ovvero sia quando anche i bambini sanno che la stagione teatrale ormai è conclusa, che sembra una ingiuria ulteriore nei confronti della filiera dello spettacolo. E allora, di fronte a coloro che studiano lunari e marziani codici a teco per chiudere l'Italia, al posto di immaginare protocolli di sicurezza per riaprirla, almeno dovrebbero sentire, avvertire l'onere morale di risarcire seriamente queste filiere. Da voi inginocchiate prima ancora che dalla pandemia. Per quello che vi proponiamo, 800 milioni per il 2021, 800 milioni per il 2022 per la filiera culturale. Si può fare oggi, adesso, immediatamente. Non con battaglie social, come dicono alcuni colleghi, che hanno smarrito la strada, ma con atti alla Camera che solo più fratelli d'Italia porta all'attenzione dell'emiciclo. Deputata Ferro, prego. Grazie Presidente, intanto per sottoscrivere questo emendamento che certamente, insomma, il collega Mollicone, come primo firmatario, ha descritto nella sua importanza, nel sostegno per un fondo contributo a fondo perduto per gli operatori culturali e soprattutto per tutto ciò che è spettacolo viaggiante, mostre, gallerie d'arte, tutto quell'indotto che, insomma, attorno a questo mondo ruota. Soprattutto rispetto ad un Paese che è reso eccezionale dall'aspetto culturale e che probabilmente, forse non ci si rende conto, lo si sta impoverendo giorno dopo giorno, minando alle basi di chi, in qualche modo, rappresenta il vero, unico e solo ascensore sociale. Grazie. Deputata Frassinetti. Presidente, colleghi, questo emendamento presentato dall'onorevole Mollicone, anche con la mia firma, perché in Commissione Cultura abbiamo fatto e stiamo conducendo una battaglia da almeno un anno, da quando è iniziata questa pandemia, per tutelare la cultura, per tutelare i rappresentanti dell'arte, dello spettacolo dal vivo. In una nazione come l'Italia, dove tutti si riempiono la bocca della frase la cultura deve essere un volano, poi non si incrementa e non si tutela e non si danno indennizi agli operatori di questo settore che sono completamente in ginocchio davanti a questa crisi. Se davvero la cultura deve essere un volano per l'economia, approviamo, cominciamo a fare un primo passo approvando questo emendamento. Collega Giammato, prego. Sì, grazie Presidente. L'emendamento 2b02, presentato dal collega Mollicone, peraltro da me sottoscritto e firmato, e ovviamente condiviso nell'essenza, affronta un'altra tematica. Dopo aver parlato di ristoratori, dopo aver parlato di palestre, parliamo delle imprese del settore culturale. In questo emendamento noi immaginiamo che nel 2001 e nel 2002 si possano dare 800 milioni di euro proprio per ristorare questa categoria produttiva, non dico di elite, perché è evidente che lo sviluppo del volano attuato e messo in campo da questo tipo di imprese riguarda tutto il nostro comparto produttivo, e concludo, Presidente. E' proprio per questo ritengo che in questo momento storico per l'Italia dobbiamo far sentire la nostra presenza anche rispetto alle imprese del settore culturale. Deputata Luca Selli, prego. Sì, grazie Presidente. I lavoratori della cultura hanno messo il loro unico, straordinario impegno nel continuare in un settore che è stato penalizzato più di altri probabilmente, e allora è veramente difficile capire come mai questo emendamento di Fratelli d'Italia non venga accolto all'unanimità da questa Assemblea soprattutto per l'importanza che esso rappresenta e cioè per riportare l'attenzione su di un settore, quello della cultura, la cui importanza è una consapevolezza condivisa ed è una consapevolezza ineliminabile. Noi riteniamo che sia e che sarebbe un gravissimo danno non soltanto per tutto il settore ma soprattutto per i cittadini italiani e per lo sviluppo della loro cultura. Grazie. Deputato Maschio, a lei la parola. Grazie Presidente. Sapete perfettamente come l'intero mondo della cultura, dello spettacolo, del teatro, della danza sia in una situazione drammatica. Le chiusure imposte in questo lungo periodo e l'assenza di reali indennezzi che consentano questa realtà di sopravvivere è un dato di fatto oggettivo a cui si deve porre termine. Questo emendamento che propone uno stanziamento di 800 milioni è il minimo di quanto serva per colmare un vuoto che porterebbe alla chiusura di un patrimonio culturale straordinario della nostra nazione e che non può essere abbandonato o dimenticato come sta accadendo adesso. Quindi rivolgiamo veramente un appello alla maggioranza del Governo a non abbandonare la cultura, lo spettacolo, il teatro, i musei, le tradizioni e le realtà che fanno parte del patrimonio della nostra nazione. Grazie. La deputata Montaruli ha facoltà di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Anche in relazione all'attività di impresa culturale noi abbiamo assistito a un colpevole e forse doloso vuoto di sostegno che mette in ginocchio tantissimi operatori. Qui non si tratta di difendere il vezzo di qualcuno che non sa cosme riempire il proprio tempo libero. Qui si tratta di dare una risposta a tantissimi lavoratori che hanno fatto della cultura in una grandissima nazione come l'Italia un volano per il nostro territorio, per l'Italia stessa e allo stesso tempo uno strumento di lavoro. E' quella difesa del lavoro che oggi noi chiamiamo a rispettare. un diritto che è tutelato costituzionalmente, una difesa che è necessaria perché nella nostra stessa Costituzione che voi richiamavate in passato ha più riprese e che oggi va difesa davvero. Collega Osnoto, prego. Grazie Presidente. Noi riteniamo incomprensibile l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nei confronti dei settori culturali, dello spettacolo, dei teatri. E' incomprensibile come si tenga tutto chiuso. Si prevede una altrettanto incomprensibile riapertura limitata dei teatri a stagione finita, come giustamente diceva il collega Mollicone, quindi sostanzialmente impedendo di svolgere la funzione che i teatri stessi hanno. Non vorremmo che dietro questa apertura mortificante ci fosse l'altrettanto mortificante idea di non dover poi sostenere i costi di ristoro e di indennizzo dei teatri stessi. Quindi noi chiediamo che vengano stanziate queste cifre su questo fondo, questi 800 milioni, affinché questi importanti istituti culturali rimangano aperti. Grazie. Collega Prisco, prego. Grazie Presidente. Questo emendamento è sostanzialmente paritetico a quello del mondo dello sport, un altro settore, quello della cultura, che è stato fortemente colpito dagli effetti diretti ed indiretti di questa pandemia e che sembra essere stato colpito anche da provvedimenti spesso assurdi. È stato colpito anche dall'oblio e mi domando e vi domando se l'Italia può permettersi di abbandonare il settore della cultura avendone rappresentate e tracciato la storia per centinaia e centinaia di anni. Io credo che abbiamo un patrimonio anche di rappresentanza di quello che è stato prima di noi, che il mondo della cultura e dello spettacolo rappresenta e che abbiamo il dovere sacrosanto di difendere come patrimonio nazionale e per queste ragioni che chiediamo di sostenere agli uomini e alle donne libere di questo Parlamento questo emendamento che consente se non altro di trovare qualcosa al di là del fiume quando questo maledetto periodo di pandemia sarà terminato e di difendere quel patrimonio straordinario che è anche il mondo dello spettacolo e il mondo della cultura in questa nazione grazie Silvestroni prego grazie presidente scuole chiuse poi riaperte ma a distanza poi chiuse a singhiozzo insomma la cultura ha subito danni enormi e così anche chi investe e prova a fare impresa in questo settore così importante presidente le imprese del settore culturale se non vengono aiutate non supereranno la crisi ed è con questo emendamento che chiediamo di dare una speranza a chi investe in cultura quindi io sottoscrivo l'emendamento e chiedo di votare sensibilmente a favore dell'emendamento stesso grazie la deputata Buccalo ha facoltà a intervenire prego grazie presidente anche questo emendamento è un emendamento importante perché tutela uno dei settori tra i più colpiti della pandemia il settore della cultura interessati sono spettacoli dal vivo settore musicale mostre gallerie d'arte quindi tantissimi posti di lavoro a rischio la chiusura ha portato già una riduzione dei salari e anche licenziamenti adesso non bisogna più veramente aspettare questo è un emendamento che bisogna votare subito grazie dichiaro aperta la votazione